Giovedì 23 agosto 2018. Mancano 130 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della vergine. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Rosa, Rosella, Rosanna, Rosalba, Novella e Benito. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Farneti. Il cognome è probabilmente legato a località nelle vicinanze di boschi di Quercefarnie. Il ceppo principale è in Romagna, nel Forlivese, ma esiste un ceppo secondario anche in Umbria. La variante Farnetti è laziale, con maggiore concentrazione nella ciocciaria. Accadde oggi. Il 23 agosto del 1940 inizia il bombardamento di Londra da parte dei tedeschi. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri a Rita Pavone, nata a Torino il 23 agosto 1945. La citazione da ricordare. La vera cultura vive di simpatie e ammirazioni, non di antipatie e disprezzo. William James. Dice il saggio. Quando il cuore è pieno di ira, essa esce dalla bocca. Proverbio del Burundi. Un consiglio al giorno. Ogni tanto ricordatevi di pulire spazzole e pettini. Mettetele in ammollo per una notte intera in una bacinella di acqua tiepida, a cui avrete aggiunto del sapone liquido e un paio di cucchiai di ammoniaca. La mattina seguente saranno puliti e igienizzati.